30 sono i nuovi sindaci eletti in altrettanti comuni del Cilento con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. La metà dei sindaci è stata riconfermata, segno che probabilmente hanno lavorato bene e non sono stati coinvolti nella rivoluzione leghista come accaduto per le europee, dove il Cilento ha espresso molti consensi per il partito di Salvini. Ma vediamo comune per comune chi sono i nuovi sindaci. Ad Albanella Enzo Baggini, ad Ascea Pietro D'Angiolillo è stato riconfermato, Auletta Pietro Pessolano anche egli riconfermato, a Bello Sguardo Giuseppe Parente riconfermato, Caggiano Modesto Lamattina, Campora Antonio Morrone, Casalbuono Carmine Adinolfi, Casaletto Spartano Concetta Amato, Caselle Impittari, Giampiero Nuzzo, Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida riconfermato, Cicerale Gerardo Antelmo, Cuccaro Vetere riconfermato, Aldo Luongo, Affelitto Carmine Casella, Futani, Agnello Caputo riconfermato, a Gioi Maria Teresa Scarpa, Laureana Cilento, Angelo Serra riconfermato, Montano Antilia, Luciano Trivelli, Morigerati, Vincenzina Prota, Omignano, Raffaele Mondelli, Ottati, Elio Guadagno, Arrofrano, Nicola Cammarano riconfermato, come pure a Sala Consilina, Francesco Cavallone, a Salento riconfermato, Gabriele De Marco, San Mauro Cilento, Giuseppe Cilento, San Pietro Altanagro, Domenico 40 riconfermato, come pure a San Rufo, Michele Marco è stato riconfermato, anche a Torchiara, Massimo Farro riconfermato, Torraca, Domenico Bianco riconfermato, Torre Orsaia, Pietro Vicino riconfermato e Valle dell'Angelo, Salvatore Iannuzzi riconfermato sindaco.